Io pensavo praticamente di costruire grammature di colore, adoperando non più i colori ma adoperando strisce delle etichette. Il guaio è stato quando la colla delle etichette esclusivamente funzionate sul vetro, mi ha reagito tantissimo sul materiale mio che è fondamentalmente l'intonaco. E quindi è stato un impegno molto grande, sono molto contento per avere abilmente o faticosamente e se mi ha tenuto a quanto mi era stato richiesto.